benvenuti in questo nuovo tutorial sono danilo d'antonio oggi ci occupiamo dell'indio della seconda pec come per la prima pec dobbiamo sapere quali documenti sono necessari per l'invio quindi per prima cosa andiamo sul sito noie sezione documenti e clicchiamo su seconda pec nella pagina successiva scarichiamo il file chiamato istruzioni per invio seconda pec apriamo quindi il file scaricato e scorriamo il documento fino in fondo per scoprire di quali documenti abbiamo bisogno nel paragrafo file d'allegare troviamo notifica ed evidenza di disonore italy republic off con relative ricevute di consegna pec military order o ppt siamo legalmente liberi tutto sia in italiano che in inglese questi documenti non necessitano di modifica dovremo solo scaricarli dal sito nel paragrafo file da stampare autografare scansionare e allegare troviamo dichiarazione il documento è stamparlo firmarlo e sigillarlo nel paragrafo file da compilare stampare autografare scansionare e allegare troviamo im dod dor doc ri questi documenti li abbiamo già compilati nei tutorial precedenti e quindi non dobbiamo fare nient'altro a questo punto scarichiamo i documenti necessari torniamo alla pagina documenti e scarichiamo la notifica ed evidenza di disonore cliccando sul bottone quindi scarichiamo sia la versione in italiano che quelle in inglese inoltre scarichiamo l'intera cartella ricevute di consegna pec torniamo ai documenti clicchiamo su siamo legalmente liberi e scarichiamo i due file italiano e inglese torniamo indietro un'ultima volta clicchiamo su remedi e scarichiamo come prima i due file in italiano in inglese per prima cosa stampiamo remedi e compiliamo appena viola le parti in tutti i pie pagina su io sono le iniziali del nome e del cognome in maiuscolo la firma in alternato e la sigla I am come visto nei documenti precedenti tutto sigillato con l'impronta digitale questi documenti italiano e inglese vanno autografati non in alternato ma tutto in minuscolo come potete vedere da questo esempio creiamo una nuova cartella e la nominiamo seconda pec quindi facciamo anche per il remedi una scansione che metteremo nelle cartelle seconda pec appena creata a questo punto copiamo nella cartella seconda pec tutto il materiale appena scaricato presente nella cartella download aggiungiamo inoltre i documenti scansionati e preparati nei tutorial precedenti ovvero dod, dor, doc, ri in formato pdf aggiungiamo anche tutti i documenti utilizzati per la prima pec ovvero noie, military order e i am a questo punto analogamente a quanto già fatto per l'invio della prima pec modifichiamo con i nostri dati il corpo pec e salviamo il file che poi servirà per effettuare l'invio vero e proprio per ulteriori domande sui documenti o se avete bisogno di ulteriore aiuto per la compilazione dell'invio non esitate a contattare i referenti delle vostre terre saranno lieti di aiutarvi per ogni difficoltà il video finisce qui vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo tutorial